Musica Scoppiata la bolla del tavolo finale prima del tavolo televisivo, abbiamo qua Roberto Ciao, ciao Ciao, non sei molto felice però è uscito con una bella mano comunque Sì Raccontiamo questa mano brevemente Ho Jack Jack, metto resti in quanto 10 big blind, non potevo fare altrimenti quindi trovo il chip leader con Asso K Lui trova il K subito al flop, fine dei giochi ma è standard voglio dire normale, va benissimo così Ti sei comunque divertito, ti abbiamo visto molto sereno anche a te quindi ti facciamo lo stesso i complimenti perché sei arrivato al tavolo Grazie, grazie mille, bella soddisfazione nonostante tutto Sta mentendo perché voi non lo vedete ma è così, la prossima volta ci rifacciamo Va bene, come no, senz'altro sicuramente Salutiamo, vuoi fare qualche auguri a qualcuno per le feste? Auguri a tutti, buone feste a tutti e basta E tante belle cose Ciao, alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.